Ben ritrovati con Decoder, sono due gli argomenti di questa sera. Nelle prime due parti vi racconteremo una vicenda di emigrazione del secolo scorso e poi ci occuperemo del IV Regimento Alpini Paracadutisti che nei giorni scorsi ha portato una ventina di militari in addestramento sulle piste degli spiazzi di Gromo. Ma iniziamo con il raccontarvi la storia di Pietro Santo Maringoni, un gornese che all'inizio del secolo scorso si è trasferito in cerca di lavoro in Australia. E per raccontarvi questa storia nei nostri studi abbiamo Luigi Furia, giornalista, e Attilio Zanotti che è nipote di Pietro Santo Maringoni. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Partiamo da Luigi Furia. Luigi Furia è stato più volte da noi per raccontarci anche queste vicende e quindi è già abbastanza noto che nel secolo scorso numerose persone abbiano lasciato la Valle del Riso in cerca di lavoro in terre lontane come l'Australia e l'attività principale in cui furono impegnate queste persone è stata quella mineraria. Giusto Luigi? Sì, è giusto. Cioè teniamo presente che a Corno ci sono miniere diciamo così secolari. per cui quando si scoprì del minerale aurifero in quel dì dell'Australia visto e considerato che la società che gestiva le miniere di Corno era una società inglese, no? e vista la lavoriosità e il tipo di lavoro che facevano i nostri minatori hanno pensato bene di ingaggiarli anche per le loro miniere e in particolare per le miniere dell'Australia. e diciamo così quello che ha iniziato questo peregrinare diciamo o emigrare in Australia è dovuto a un ingegnere americano, un certo Hoover che poi diverrà tra l'altro anche presidente degli Stati Uniti d'America. questo giovane laureato in materia mineraria stava appunto valutando anche quello che era la sua carriera e dall'America è arrivato a Londra dove praticamente c'era e come c'è ancora adesso teniamo presente che il mercato dei minerali a livello mondiale è gestito ancora dalla borsa di Londra e le quotazioni avvengono solo a Londra. Diciamo... E già il fatto che Hoover sia passato da Corno anche questo è un episodio che merita un po' di attenzione giusto? Sì, è importante e si può, si è dedotto principalmente da documentazione, non abbiamo la fotografia di Hoover in quel di Corno ma si sa che lui si è fermato in Italia e è salito nel liminiere appunto della Val del Riso dove operava una società inglese e da lì poi è partito da Genova, dal porto di Genova per andare in Australia perché diciamo così i finanziatori inglesi l'avevano ingaggiato perché lui andasse in Australia a risollevare un po' le sorti della miniera Guglia, Sono Guglia che era in cattive acque insomma, in pratica non rendeva quello che loro avrebbero sperato anche perché si trattava di una miniera d'oro e appunto Hoover prima di partire si è reso conto anche come si lavorava in quel di Corno e dove quelli che lavoravano all'interno allora, siamo a fine 1800, si lavorava a contratto in questo senso che gli operai, i minatori e anche le donne della Cernit all'esterno della miniera non venivano pagate a ore, a giornata o altro ma venivano pagate in base a quello, al minerale che portavano a bocca di miniera Ecco però per i nostri bergamaschi che allora decisero di prendere la strada dell'Australia c'erano sicuramente dei vantaggi importanti, a loro veniva prospettato la possibilità di guadagnare perché venivano attirati un po' da questo miraggio anche di ricchezza Sì, la prospettiva era d'oro diciamo, nel senso che là invece di zinco si ricavava oro, prima roba per cui l'oro è sempre stato un minerale che attrae e invoglia tutti anche a partire secondo motivo è che le società che ingaggiavano pagavano il viaggio in nave teniamo presente che il viaggio durava 30 giorni, Canal di Suez, Colombo e poi Australia e in più la paga garantita allora, il cambio di allora, era 7-8 volte in più di quello che percepivano in quel di Corno, per cui tanti si sono partiti e partivano addirittura anche in 30-40 eccetera, e anche negli anni successivi, cioè questi sono stati i pionieri a fine Ottocento ma anche negli anni successivi, cioè c'erano sempre degli emissari minatori di Corno, Unetta o anche della Val di Scalve rientravano in Italia per ingaggiare altri minatori che andassero là e diciamo così che naturalmente non era la vita dei nostri paesi perché diciamo che le miniere erano dai 700 agli 800 ai 1000 chilometri all'interno dell'Australia nel famoso bush australiano che in pratica è un deserto di terra rossa, di sabbia rossa dei cespugli, qualche eucalipto e se erano fortunati trovavano anche qualche canguro che serviva magari a mettere in padella Ecco ma veniamo ad Attilio Zanotti Pietro Santo Maringoni è suo nonno noi abbiamo una fotografia con cui possiamo mostrarvelo voi non sapevate molto di Pietro Santo? I miei genitori, le figlie, hanno saputo poco o niente i primi tempi mandavano qualche sterlina mandava qualche sterlina poi si sono persi i contati si è anche ammalato è stato anche prigioniero di guerra poi nel 40-43 la prima volta è partito nel 1911 appena maggiore neanche lui è tornato nel 1914 è conosciuto Rogerini Lucia che poi ha sposato e nel 1915 è nata la prima figlia Ines poi è ripartito ancora per l'Australia è tornato nel 1922 mi sembra 1922 che poi ha fatto due figlie la Maria e la Gemma che era mia mamma nel 1923 e nel 1924 poi è partito a marzo 1925 e non è più tornato è morto poi in Australia a Cargoli nel 1952 quindi di loro abbiamo solo una fotografia del nonno Pietro noi siamo alcuni nipoti che adesso ci fa piacere ricostruire grazie a Luigi che ha fatto una ricerca ha avuto dall'Australia un 80 pagine diciamo di ricostruzione del nonno Pietro quindi a un certo punto voi siete andati da Luigi Furia e avete detto noi abbiamo il nostro nonno di cui non sappiamo molto cerchiamo di ricostruire un po' la sua vita cosa ha fatto e cosa è successo esatto e quindi poi Luigi come si è mosso? ma io mi sono mosso adesso mi muovo via internet io ho degli agganci a Perth e anche a Cargoli Boulder c'è gente che ho conosciuto quando sono stato in Australia per mio diletto e per visitare quella terra rossa strana e per cui ho contattato queste persone poi oggi c'è internet siccome quando i nostri minatori che erano là e lavoravano chiedevano la naturalizzazione cioè in pratica per avere la doppia cittadinanza che permetteva anche di avere migliori assistenze sia per malattie o per altro da Australia e quando richiedevano appunto l'anautorizzazione non è che la polizia australiana fosse come lo è anche adesso per la verità perché in Australia non si entra così clandestinamente e per cui gli facevano i raggi diciamo nel senso che voleva sapere quando era andato cosa faceva, la famiglia, il lavoro eccetera dopodiché considerato tutto gli davano la cittadinanza anche australiana che appunto facilitava la loro vita in quel dia Australia diciamo così che questi emigranti in modo particolare nel periodo bellico della seconda guerra mondiale sono stati tutti internati in campi di concentramento ecco lo scoppio della guerra quelle persone che si trovavano là improvvisamente si trovano non più in una condizione di lavoratori ma di prigionieri perché potevano essere potenziali agenti di uno stato avversario venivano proprio richiusi in campi di concentramento insomma venivano radunati e chiusi è successo però che per esempio quelli che lavoravano in miniera dopo l'armistizio della seconda guerra mondiale sapete che a metà c'è stato l'armistizio del 43 poi siamo andati avanti ancora un po' in guerra e non guerra e in quel periodo lì i minatori sono stati liberati comunque anche il maringoni è rimasto tre anni e mezzo in campo di concentramento perché li hanno liberati questi? perché prima roba si trovavano in zone desertiche e non è che potessero cospirare chissà che cosa seconda roba siccome l'oro è prezioso adesso insomma era maggiormente prezioso allora serviva anche alle casse dello Stato per cui i minatori li hanno riammessi a lavorare nelle miniere e questo è stato anche un po' la vita di maringoni quindi diciamo che in quegli anni in cui ovviamente poi questa persona non è tornata c'è anche questa pagina importante e quindi anche la prigionia abbiamo detto che dal 25 non è più tornato non è più tornato quindi anni 40 quando poi è successa poi la guerra scoperta poi la guerra c'è stata anche questa prigionia che sicuramente è inciso possiamo immaginare che sia stata una vita non facile una vita comunque di lavoro, di fatiche anche malattie e poi nella seconda volta quando è tornato nel 22 è venuta una valigia di inferno che adesso l'ho messa in una nicchia cioè tutti attrezzi di minieri di Diagorno chi vuole visitarli è lì da vedere e poi ho messo questa valigia che il nonno ha lasciato non è venuta la penultima volta poi è partito non è più tornato Luigi voleva aggiungere? no, vorrei aggiungere questo che in pratica là cioè tanti sono rimasti là o perché magari per un infortunio in miniera o anche principalmente per la silicosi nel senso che questi andavano giù teniamo presente che allora non c'era maschere non c'era diciamo così insufflazione d'acqua durante lo scavo per cui respiravano silice a tonnellate insomma non a chilogrammi per cui chi faceva questo lavoro si trovava alla fine ammalato e non riusciva più a respirare bene per cui la fine era già annunciata teniamo presente un'altra cosa che per esempio là l'assistenza sanitaria era quella che era le strutture erano una palazzina in mezzo al deserto dove c'erano gli infermieri e i dottori questi ammalati di silicosi che avevano difficoltà respiratorie erano alloggiati in pratica in specie di box sparsi in giro all'infermeria con tre pareti senza una parete perché dicevano o comunque questa era la scelta che avevano fatto loro che così riuscivano a respirare meglio perché entrava l'aria diciamo che là freddo non fa mai per la verità però insomma non era una vita sicuramente da beh comunque ci sarà stata anche un po' di escursione termica in una località semi desertica quindi tra il giorno e la notte con un po' di differenza anche di temperature immaginiamo che ci sia però tiravano un tendone basta era la parete quindi queste malattie principalmente la silicosi è quella che poi ha ha pesato maggiormente nella loro vita si è principalmente quella dopo teniamo presente che noi abbiamo le nostre miniere c'è la montagna entrano orizzontalmente là la miniera entra verticalmente ci sono i pozzi verticali che si andano giù fino anche 300-400 metri sotto terra e poi c'è un'altra galleria obliqua eccetera dove tirano su il minerale per cui io ho provato a entrare in una di queste miniere e a scendere con il montacariche eccetera ti sembra di precipitare all'inferno vai giù 300-400 metri per cui anche la reazione che c'era in questi minieri e per quello che tanti o la maggior parte si sono ammalati di silicosi all'inizio quantomeno avevano il ritorno dello stipendio perché allora ho detto prima che era 7-8 volte c'era il viaggio pagato eccetera chi si è accontentato diciamo così ha fatto un gruzzolo e magari ha preso una cascina nuova nel paese quando è tornato tanti sono rimasti là anche per scelta perché se noi andiamo nell'Ouest in Australia tra Bergamaschi e in modo particolare dalla Val di Reso e Val di Scalve e Valtellinesi diciamo così che l'Ouest in Australia un 30% e più sono di discendenza bergamasca posso fare un esempio io quando sono stato là sono stato al il municipio a Fremantle che è diciamo così il porto principale dell'Ouest in Australia dove hanno fatto anche l'American Cup e sono entrato a visitare appunto con la delegazione con il mio sindaco di allora eccetera e trovo il sindaco di Fremantle che faceva di cognome Tagliaferri vado in Guglia e a Leonora Guglia dipende da Leonora entro cioè io lo sapevo già per la verità perché l'avevo appreso andando con il prospettore il treno che entra nel deserto il sindaco di Leonora allora era un Epis ecco quindi cognomi del nostro territorio ci fermiamo per una breve interruzione torniamo subito tra poco eccoci in onda stiamo raccontando la storia di Pietro Santo Maringoni questo emigrante di Gorno una vicenda di cento anni fa perché in fondo è partito per la prima volta lasciando la Val del Riso nel 1911 quindi vicende davvero lontane nel tempo la vita era sicuramente ben diversa rispetto a quella che possiamo anche solo immaginare noi oggi con quella che è poi anche la vita di tutti i giorni odierna Luigi appunto cosa potremmo aggiungere delle loro condizioni di vita la vita diciamo era magra nel senso che a parte il viaggio che partivano da Genova facevano cioè in pratica erano 30 giorni di nave tassativo nel senso che se questi a Genova prendevano una nave con bandiera inglese potevano arrivare anche al 25esimo giorno se la nave portava una bandiera della Germania o della Spagna o dell'Italia se arrivava anche al 25esimo giorno di fronte alle rive dell'Australia doveva stare in rada e entrare solo al 30esimo giorno in Australia questo lo facevano perché volevano che viaggiassero sulle navi inglesi quasi come una sorta di quarantena sulla nave facevano uno scalo a Colombo nello Sri Lanka adesso allora si chiamava Ceylon l'isola di Ceylon dove appunto facevano rifornimento di carbone tutto l'annesso e naturalmente anche viveri perché allora non c'erano i transatlantici di oggi diciamo anche che il viaggio avveniva in stive cioè non è che avessero le cabine e robe del genere nelle stive c'erano delle brande no imbullonate sul fondo eccetera tipo camerate di una volta dei militari di una volta e lì dormivano e tenevano tutto arrivati là appunto diciamo così che la costa la parte costiera per 20 30 chilometri eccetera e verde e poi prendevano il prospector che era il treno che avevano una ferrovia apposta che avevano ideato e costruito da pochi anni che entrava proprio all'interno dell'Australia dove c'erano queste miniere d'oro tenete presente che 30 40 chilometri verde poi comincia a diventare brullo eccetera poi è terra rossa sabbia rossa con quattro cespugli di Ginepro o robe del genere qualche eucalipto ci sono anche dei laghi due o tre laghetti durante il percorso ma sono laghi salati cioè nel deserto dove deposita un po' d'acqua e poi arrivavano alla loro destinazione che era in pratica l'alloggio era una baracca di lamiera lamiere ondulata tant'è che per tenere in fresco qualcosa avevano inventato i nostri emigranti la moscarella come un disnoto dove una volta tenevano la roba che si deteriorava facevano un buco sotto il pavimento della baracca e poi mettevano giù quella poca roba da conservare la tenevano sotto terra magari a volte in qualche straccio robe del genere perché non durava un giorno andava subito a male se le temperature elevate temperature elevate con baracchie di lamiera pensiamo un po' addirittura su in Guglia c'era c'è ancora c'è un hotel chiamato hotel tutto in lamiera cioè l'esterno tutto in lamiera e l'unica l'unico fabbricato in muratura eccetera era dove c'erano gli uffici della miniera se no erano tutte baracchie qui stiamo vedendo una fotografia sì questo è l'hotel Cornwell che poi è stato gestito per anni da un certo Giovanni Furia era un po' il ritrovo degli emigranti della zona questo si trova a Bulder cioè Bulder e Calgulli sono in pratica vicinissimi anzi adesso sono attaccati perché hanno costruito lì era un po' il ritrovo dove si trovavano appunto i bergamaschi e dove gli italiani e dove anche era il primo approdo perché lì trovavano quanto meno assistenza e lì era la domenica se non erano fuori per il deserto a prospettare perché faccio un'altra considerazione c'era chi andava doveva stare sotto quella ditta lì per tre anni poi erano liberi anche di cambiare la società mineraria questo per il viaggio perché il viaggio era pagato dalla società che però chiedeva di restare veniva trattenuto qualcosa per i bravi poi c'era chi naturalmente che si lasciava prendere dalla febbre dell'oro no e allora andavano per il deserto delle volte anche solo con una carriola con dentro qualcosa o altrimenti i più fortunati o quelli che avevano più possibilità prendevano un camioncino con ruote di legno perché se sei nel deserto se fuori non vieni più fuori e andavano a prospettare cioè a far giù dei buchi a vedere se trovavano l'oro anche perché qualora ce ne sono stati due in quel digorno che hanno trovato l'oro perché quelli che trovano l'oro lo sfruttamento è l'oro cioè lo sfruttamento il cavare l'oro perché poi tutto l'oro va sempre consegnato comunque allo Stato non è che lo possono commerciare lo Stato glielo paga no il prezzo concordato però è sempre l'oro è sempre dallo Stato non è del concessionario quindi erano anche cercatori d'oro quindi qualcosa qualcuno ha trovato qualcuno ha fatto magari veramente fortuna sì qualcuno prima certi zanotti i suoi non suoi parenti ma comunque probabilmente andando indietro eccetera all'Inden avevano trovato una vena d'oro e l'hanno sfruttata per qualche anno erano erano tre o quattro fratelli che si sono alternati in quell'Australia poi c'è stato un altro quello me lo ricordo anche io un certo Cabrini sì Cabrini che appunto con altri due soci valtellinesi ha trovato questa una cosa molto più importante più significativa tant'è che poi hanno fatto hanno fatto fortuna diciamo e me lo ricordo perché poco dopo aver scoperto questa vena d'oro è tornato in Italia per cercarsi la moglie perché voleva io me lo ricordo appena con quei cappelli di una volta tipo far west eccetera tutto vestito a festa che non è che noi andassimo tutti i giorni vestiti a festa con la macchina con l'autista eccetera che è arrivato finché è stato adesso non mi ricordo bene se si sia fermato un mese o due ha trovato la sposa diciamo una signora di Albino si sono sposati e poi lui è tornato ancora là e lui adesso non c'è più però che sappia io la miniera almeno per un po' d'anni è durata quella ecco Zenotti lei voleva ricordare anche i suoi parenti tutte le persone che poi hanno scoperto anche queste vicende ecco l'unica cosa che abbiamo poche tracce del nonno Pietro perché abbiamo solo quella foto lì la la nonna Lucia che era la moglie del Pietro ha detto che ai primi tempi aveva mandato qualche sterlina poi si è perso tutti i contatti neanche la postura era più niente si è saputo nel 52 quando è mancato che è arrivata la comunicazione quindi la moglie è rimasta qui in Italia con tre figlie abbiamo solo tre figlie abbiamo solo questa foto come riferimento più niente adesso ringrazio Luigi aver fatto questa ricerca perché se no senza di lui non saremmo riusciti a ricostruire il tutto avete scoperto ad esempio che era si era anche ferito ad un occhio si è ferito ad un occhio che è stato tre anni e mezzo prigionieri di guerra quindi anche quella è una cosa che poi si è ammalato anche quella è una cosa purtroppo e sapete anche poi dove è sepolto nel cimitero di Gilbert sì poi per esempio la ricerca sui cimiteri è facile in Australia perché tutti i cimiteri non è che ce ne siano molti per la verità abbiamo trovato anche dopo dopo Guglia andando su ho trovato anche dei cimiteri abbandonati cioè sei nel deserto e vedi dei cippi con su dei nomi o anche solo una croce no ma tipo buldero anche a Perth e robe del genere o nei paesi più grossi cioè tutti i cimiteri hanno in pratica hanno l'elenco di tutti e sono caricati su su un terminale per cui tu digiti in internet in internet digiti il cimitero di no voglio cercare se c'è questa persona lui te lo dice che è sepolta lì c'è il numero di della tomba il settore eccetera perché poi ci sono i cattolici i protestanti e quelli senza religione alcuna e ognuno ha il proprio campo ecco questa consapevolezza su questo fenomeno migratorio ha anche avuto un momento probabilmente anche un po' celebrativo ma poi di maggiore consapevolezza quando poi è stato pubblicato anche il libro con una storia di Modesto Marischetti così io allora per caso io avevo qualcosa dell'Australia anche perché mio papà è stato in Australia prima di sposarsi però sapevo di questa storia di Modesto Varischetti avevo qualche appunto qualche cosa di mio papà e se no che appunto adesso non mi ricordo più neanche l'anno comunque vado ho incontrato Tom Austin che era un giornalista australiano questo era partito dall'Australia da Perth e perché in Australia quando almeno in epoca recente loro prendono solitamente l'anno sabbatico cioè cosa fanno magari per 5, 6, 10 anni non fanno ferie no poi chiedono un anno no perché quando ci si muove dall'Australia uno che vuole per esempio visitare l'Europa non può farlo in una settimana no allora partono e stanno via dei mesi questo è arrivato a Corno perché lui abitava vicino a a un certo Ben Guerinoni no che io avevo conosciuto perché lui è tornato è andato due o tre volte e che aveva che erano quattro fratelli che erano emigrati in Australia uno solo era tornato che abitava a Monza e un altro il più giovane che non era partito e questo Tom Austin è partito di là con l'incarico di venire a Corno a salutare il fratello del Ben Guerinoni quando è arrivato a Corno ha chiesto appunto che gli sarebbe piaciuto sapere un po' di più del paese e di ricostruire la storia di Modesto Varischetti la signora no gli ha indicato il mio nome è venuto a cercarmi poi ci siamo trovati a Clusone perché era alloggiato è stato alloggiato una settimana qua a Clusone e ci siamo messi d'accordo quando è uscito il libro diciamo così si è interessato di più anche l'amministrazione pubblica e appunto hanno ideato il sindaco allora era ancora Giampiero Calagari ha ideato di fare il gemellaggio con Calgurli per cui siamo partiti in delegazione e siamo andati appunto a fare il gemellaggio io anche là abbiamo presentato il libro e poi da lì sono nati anche dei rapporti e si è nata anche la conoscenza diciamo così che là c'è anche il club dei Bergamaschi nel mondo e di fatti quell'anno lì abbiamo festeggiato la festività di Sant'Alessandro in Australia Zanotti voleva aggiungere? vorrei dire che il papà di Luigi era coetaneo di mio nonno Pietro del 1893 casualmente diciamo quindi può darsi magari che si sono anche incrociati si sono partiti insieme probabilmente sono partiti assieme probabilmente quindi noi nipoti siamo contenti di aver ricostruito questo sentiero diciamo che è stata una grande novità per noi un grande piacere ecco Luigi partivano anche intere famiglie si partivano cioè io adesso sto seguendo perché cioè in pratica allora come arrivavano cioè quando uno gli dicono ti pago il viaggio vieni là ti do sei o sette o otto volte lo stipendio che prendi qua la gente si lasciava convincere no per cui e c'era chi partiva cioè ti dico quattro fratelli non è che partisse e non sono gli unici non solo partiva magari col figlio io adesso sto seguendo un'altra storia dove il diciamo così il capofamiglia è partito con il figlio di 13 anni perché poi là gli facevano probabilmente facevano dei lavoretti li avviavano comunque già al lavoro o comunque cioè noi dobbiamo tenere presente che a fine ottocento anche da noi anche i ragazzi entravano in miniera cioè io ho presente un credo che fosse Epis Dionetta che a 13 anni o 12 o 13 anni ha perso un braccio in miniera no per cui e quindi è rimasta traccia di questo episodio con l'età di questa persona coinvolta in questa vicenda e in alcuni casi c'erano anche dei minatori che avevano una doppia famiglia sia in Australia sia in Italia il fatto che loro entravano là eccetera magari avevano fatto anche un po' di fortuna avevano fatto un po' di soldi cosa succedeva che tornavano con l'intenzione di convincere la moglie a seguirli e siccome dico io sempre le mie al viaggio dell'ort cioè non è il viaggio dell'orto cioè le donne non sempre erano disponibili a iniziare questa avventura perché voleva dire anche trappare io dico le radici del proprio territorio della loro famiglia delle loro conoscenze magari lasciare la madre ammalata c'erano tante vicende e poi cioè dover imparare una lingua nuova faccio un inciso adesso sulla lingua sul dialetto italo bergamasco australiano c'era il dialetto bergamasco cioè austro bergamasco il foc e bastetto o il ganguerù che era il canguro o il rabbitì che era il coniglio e altre cose ma adesso ho perdito il filo del discorso e comunque ecco ormai anche il nostro tempo è esaurito quindi vi ringraziamo per aver condiviso questa storia sono tantissime le vicende stiamo parlando anche di chi probabilmente ha avuto anche due famiglie eventualmente torneremo anche a raccontarne anche altre intanto ringraziamo i nostri ospiti voi per la vostra attenzione decoder non finisce qui al rientro ci trasferiremo sulle piste degli spiazzi di gromo dove nei giorni scorsi si sono esercitati sugli sci alcuni alpini paracadutisti del quarto reggimento di stanza a Verona grazie grazie tra poco